Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Non ha uno scopo, come vi dicevo, costa 5€ a prezzo pieno, adesso al momento in cui sto registrando è a 3,99€, vi vale o non vi vale? Lo sarete voi a decidere, qua potete costruire in un ambiente più cittadino, lago, valle o deserto, noi lo faremo qui. Ok, rilassante perché? Perché voi potete andare a posizionare, muovere la visuale, vedete poi possiamo cliccando qua, possiamo andare a spostarci dove vogliamo e possiamo andare a posizionare appunto come vi dicevo, qualsiasi cosa. Nel senso che adesso, voglio solo vedere un secondo, no, va bene, possiamo scegliere il meteo, se notte, se giorno, con la pioggia o col sole, è davvero molto interessante perché è fatto veramente bene. E qua vedete possiamo andare a mettere la nostra casa, il nostro blocco della casa che vedete può essere così, può essere così, può essere più in qua, più in là, perché? Perché poi possiamo anche andare a metterla più lontana o più vicina. Al momento vedete con la Q e con la E posso allontanare e avvicinare, oltre che come vi ho detto spostarmi lungo l'ambiente, quindi posso anche solo metterla, magari avvicinarla un po' e metterla qui. E adesso voglio fare questa casa, la voglio mettere qui, questa distanza qui, qua è giusta, ok. Posso poi andare a mettere una porta, cliccando col destro posso mettere una delle porte che preferisco, io ne metterei una così, casa, no, questa sembra più un ufficio. Ma non ha un vero e proprio scopo perché qua potete creare tutto quello che volete, questa è un po' brutta. Ma in realtà anche questa, potevo piazzare una cabina diciamo di legno, ma va bene. E iniziamo a mettere una porta, quindi la porta come l'hobbit, il tetto, posso mettere il tetto, poi si sbloccano vari oggetti, quindi vedete che in questo caso sposto, posso spostarlo indietro avanti, posso farlo diventare anche una mini, diciamo come definirla, una sorta di veranda. Comunque, piazziamola così, leggermente sporgente avanti, vedete che possiamo anche muoverci così, leggermente sporgente qui, uno, due, e poi metto un altro blocco così, no, lo mettiamo senza questi, vedete che posso tornare indietro e piazzarla qua. Oppure far pensare che di là ci sia un altro edificio che non vediamo, cioè possiamo orientare e giocare con la prospettiva. Allora, in questo caso lo posso mettere così, ok. Ora, andiamo a mettere anche le finestre, ipotizzando che magari la casa ha due piani, quindi posso mettere una porta qui, una finestra lì, una finestra lì, e una finestra. Posso andare avanti e indietro, quindi metterla più sporgente o meno, lo metto così, e poi vado a mettere la mia porta. La porta la mettiamo così, più lontana, più vicina, più sporgente, la mettiamo così. Poi, non siamo contenti, andiamo a metterci magari qualcos'altro, tipo, non so, una tettoria, nulla ci vieta di, vedete che la sposto più indietro, la metto qui. Metto così, e poi posso vedere magari se c'è un colonnato o qualcosa da poterci mettere, tipo un palo. Io lo abbasso, lo mando in prospettiva, vedete che ne creo uno. Non mi piace, però in effetti, vediamo se posso fare, addirittura queste qui, queste qui sono bellissime perché, vedete, la metto così, i tubi, questo non so cosa sia. Posso andare a mettere anche vasi di fiori, pezzi di pietra, andare a creare un dislivello, insomma qualcosa, anche in, magari più in lontananza. Così, semplicemente. Questo non so cosa sia, ma è un random, questo è condizionatori, quindi possiamo andare a mettere anche questi. No, io volevo mettere il palo, questo palo qui, è un camino questo però, vedete posso metterlo così, che può essere magari un camino di una caldaia o di qualcosa, quindi, vabbè, oppure il camino così. Quindi io lo metto più vicino. Tra l'altro mi sono fatto prendere prima, stavo ricreando la mia casa. Quindi è davvero interessante. Queste sono delle sedie che posso mettere qui, le allontano, le metto qui sotto, perché poi io posso andare anche con questo a muovermi. Vedete, però adesso sono al limite, quindi qui io non credo di poter mettere delle porte, però magari sì, chi lo sa? No? Poi magari c'è modo di girarlo, eh? No, non credo, però. Vediamo un po', qua abbiamo... Questa. E la possiamo andare a mettere, vedete qua, in prospettiva abbiamo una precisione maggiore. Non so come chiamarlo, un abbaino. Ecco, questo lo piazziamo qui. E poi ci accorgiamo di averlo messo sbagliato. Quindi lo eliminiamo. Il piazzare degli alberi. L'albero in cima alla collina. Due alberi, magari uno più in lontananza. Estremamente rilassante. Non è un gioco assolutamente per tutti, perché ovviamente c'è chi cerca anche il gameplay. Ma questo è un relax, perché haci la nostra immagine. Non so se poi ci possa essere qualche... Vedete se accendono anche le luci molto belle. Qualche sorta di, magari, non so, possibilità di registrare un video o riutilizzare queste schermate per qualcos'altro. Onestamente non lo so. Però non la mi vieta di continuare. Scusate che torno col bel tempo, così almeno inizio a mettervi anche una recensione. Non ha... cioè il senso è sempre questo. Quindi facciamo così. Vedete che io continuo a mettere... Non me lo so più mettere, così. Eh, no, l'ho messo troppo... Vabbè, questa staccionata non c'entra assolutamente nulla, quindi la buttiamo via. Il gioco non costa assolutamente tanto. E... E questo, magari lo mettiamo qua. In lontananza da... Piccolo capanno. Fuori. Eh, no, devo creare la colonna per quella... Quella cosa lì, ma... Non riesco. La bandiera. Così. Questo palo qui. No, ma secondo me fa veramente schifo questo. Ok. Poi la cosa meno bella sicuramente è questo... Questo lato qui che sarà da capire come fare. Progressi. Perché poi noi andando avanti sbloccheremo anche nuove cose. Quindi il gioco ci invoglia a costruire e andare avanti a sbloccare. Posso anche fare una copia e incolla di qualcosa. Però, onestamente... Eccole qui, eccole qui, eccole qui. Le finestre. Eh, no. Però, forse non sta neanche malissimo vista così. Ok, no. Infatti, infatti, infatti. Quindi, direi che abbiamo trovato... Vediamo se troviamo anche la porta. No. Non so, la finestra. C'era una finestrina stretta che poi sembra... È come questa. No. No, 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 no. Beh, lì sopra è un po' sproporzionata, ma vabbè. Eh... Camino l'abbiamo fatto. Ho una parabola, magari. Qui. È carino, bello, bello rilassante. Probabilmente avevamo tutto il posto dove piazzare la casa qui. Volessi mettere qualcos'altro, volessi mettere una casa più di tipo cabin, la metto magari lontana. Qua in fondo. Qui. Metto questa. Dove ci piazzo magari una porticina così. La allontano sempre. Anzi, potrei anche, torna indietro, farla più piccola. E poi un piccolo tetto. Ma questo sembra più il tetto del finile. No, no buono. Così neanche. Fa schifo. Così, tetto di lamiera. Posso farla venire avanti in modo da abbassarla ulteriormente. No, ma direi che così va bene. Questo è un piccolo... Un piccolo capanno, magari, degli attrezzi. Posso mettere anche qualcosa... A me ce ne sono tanti di cose da mettere, cartelli. Insomma, questo è qualcosa di estremamente rilassante. Ovviamente non possiamo andare sempre a trovare, a cercare giochi che siano magari nuovi eredi di... di Rimward o di altri capolavori. Ogni tanto ci sono anche questi titoli che sono molto, molto particolari. E il cartello mi sa che si arriva qui. Vungo la strada. Metto bene lontano, metto qui. E da qua lo butto via. Ok. L'erba alta. Poi la casa può improvvisamente diventare anche qualcosa di estremamente, magari, incolto. abbandonato, quindi, con un sacco di erba davanti. Ho sbloccato altre cose. Ho sbloccato un nuovo tipo di erba. E io continuo a mettercene. E adesso inizia ad essere un po' più abbandonata. Un po' più... Non so se vogliamo anche poetica. Qua poi sono un po' tutte le stesse copie. Quindi blocchi casuali. Galleria dei blocchi. Contragoce. Modalità solo cursore. No. Muro. Si può fare magari anche un... Non lo so. Questo non so cosa sia. Anche questo. Magari un vecchio... Cartello dove una volta era... C'era... Una tenuta o qualcosa. Qua abbiamo l'elenco di tutto. Quindi magari qua troviamo qualcosa di interessante. E qui cambia già notevolmente quello che era la casa. Perché all'inizio sembrava una casa di evidenziale. Ora sembra più un albergo. E soprattutto qualcosa di magari molto abbandonato. Mentre la scritta non sono ancora riuscito a trovarla. Eccolo qua. Ecco. Questo potrebbe essere anche con la visuale così. Qualcosa di poetico. Niente ragazzi. Questo è tutto. Non è un video lungo. È un gioco molto particolare. Spero vi sia piaciuto. Alla prossima. E ciao ciao. Grazie a tutti